La Calabria è una terra vocata all'apicoltura, terza regione d'Italia per numero di alveari censiti, quarta per produzione di miele. Questa è la realtà sulla quale si pone di incidere con effetti benefici il piano di interventi a favore del settore. A disposizione 1.300.000 euro per gli operatori per valorizzare e promuovere il patrimonio apistico regionale, così contribuendo anche alla tutela dell'ecosistema di cui le api sono sentinelle e custodi, garantendo il 70% dell'impollinazione delle specie vegetali presenti sul pianeta e circa il 35% della produzione globale del cibo. Sì, gli investimenti sono aumentati perché rispetto agli anni scorsi abbiamo avuto più risorse e ne potremo anche utilizzare di nuove se sarà necessario. Quando io mi insediai come assessore la Calabria era al sesto posto fra le regioni produttrici di miele, adesso è riuscita a scalare posizioni, altre ne potrà scalare, non solo puntando sulla quantità ma puntando come sempre sulla qualità delle produzioni. Perché la nostra è una terra vocata alla produzione di miele e tutto ciò conferma una straordinaria biodiversità, una straordinaria ricchezza in questo senso. Ed è chiaro che noi dobbiamo anche in questo caso sostenere chi vuole, soprattutto i giovani, cimentarsi nella produzione di miele di qualità. Le domande di partecipazione al Bando dovranno essere presentate entro il 15 marzo.